Benvenuti a questo nuovo appuntamento su iLove Photoshop dedicato alla stampa, stampa a rombo molto particolare, vediamo come regolarci per arrivare a un risultato di questo tipo. Due le caratteristiche salienti in questa proposta, quindi la stampa a rombo che non è solita, anzi è abbastanza insolita e si presenta in un certo modo, quindi diventa molto accattivante presentare immagini stampate in questo modo. È una stampa quadrata a tutti gli effetti che però se viene impaginata come si deve, quindi vedremo anche in Photoshop come orientarci, come destreggiarci per ottenere l'impaginazione per poi inviare alla stampa se ci interesserà farlo, se ci piacerà farlo e seconda cosa particolare è una stampa su alluminio, è un supporto molto particolare, molto irrigante che rende le immagini ulteriormente particolari. Poi lo vediamo nella piccola ripresa che ho fatto, ho anche applicato dietro due spessorini, due spessorini servono a tenere staccato leggermente dal nulla e a dare una maggiore sensazione di profondità, quindi se c'è una luce nei dintorni creerà un po' di ombra e darà questa sensazione di distacco, sempre se ci piace. Le qualità di questa stampa sono una brillantezza eccezionale perché il supporto sotto è molto bianco, quindi se ci sono delle parti bianche delle immagini vengono esaltate particolarmente, così come vengono esaltati i colori. È una stampa diretta, effettuata direttamente sul pannello, quindi non applicata, non incollata sopra. Quindi se può interessare come realizzarla, in descrizione ci sono tutti i link per trovare il software per effettuare la stampa, gratuito, non ha nessun costo, e anche come usufruire di un bello sconto promozionale per effettuare questo tipo di stampa. Prima di lavorare la nostra immagine su Photoshop, installiamo il software, è linkato nella descrizione sotto il video e ci ritroviamo con questa icona. Basta fare doppio clic per poi trovarsi nella schermata iniziale. Quindi ci troviamo qua con diverse scelte, volendo possiamo anche effettuare altre lavorazioni. Quindi qua da fotolibri selezioniamo, abbiamo diverse scelte anche qua. Quello che ho mostrato all'inizio è l'alluminio D-Bond e quindi con seleziona ci ritroviamo nella pagina dove andremo a trovare il formato ideale per noi. Con visualizza tutto riusciamo a vedere tutti i formati disponibili. È consigliato dare un'occhiata prima proprio per regolarsi poi in Photoshop e dimensionare la nostra immagine per effettuare la stampa della dimensione che ci piace. Quindi non è obbligatorio fare un rombo, ci sono tutti i formati possibili e immaginabili sia rettangolari che quadrati. Questa è l'immagine che ho scelto io che ha un taglio verticale ma si può fare anche con immagini a taglio orizzontale. Teniamo in considerazione che andrà persa buona parte dell'immagine, quindi se il nostro soggetto ha un po' di aria intorno ci aiuterà a perdere il meno possibile dell'immagine. Ci apriamo la nostra finestra livelli, quindi dal menu finestra spuntiamo livelli e svincoliamo il livello di sfondo, un clic qua sul lucchettino per poter poi modificare l'orientamento. Dal menu modifica, trasforma, ruota, possiamo ruotare manualmente il quadro, però per fare una cosa fatta bene vediamo in questo campo qua c'è la possibilità di impostare letteralmente scrivendo la tastiera cancelliamo quello che c'è e riportiamo 45, quindi meno 45 per avere esattamente un orientamento a 45 gradi. Con questa finestra ancora aperta clicco nel tasto destro e questa volta scala perché dobbiamo adeguare la nostra immagine a quello che sarà poi il taglio successivo. Quindi dalle maniglie laterali tenendo premuto il tasto maiuscolo andiamo a ingrandire per abbracciare un campo che dovrà essere inizialmente quadrato, inizialmente perché poi dovremo tagliare per ottenere la stampa che vi ho fatto vedere all'inizio. Quindi ci giostriamo un po' a occhio per tenendo in considerazione che il taglio sarà più o meno in questa posizione in modo che tutta l'immagine sia poi abbracciata. Invio per confermare, ancora un altro passaggio per ottenere una stampa quadrata che poi quando arriverà ci basterà girare a mano per avere poi la nostra stampa a rombo. Quindi qua dallo strumento taglierina impostiamo le dimensioni che abbiamo scelto quando abbiamo dato un'occhiata ai prodotti disponibili. Io ho fatto un 40x40 quindi lo riporto qui letteralmente in altezza e in larghezza e sarò sicuro, sarò certo di avere un'immagine quadrata. Poi ancora aggiusto perché venga naturalmente inquadrata l'immagine e non parti esterne. Come ho detto all'inizio ci sarà una perdita di quello che è il contorno. Dovremo naturalmente scegliere una foto che possa sacrificare dello spazio. Invio per confermare, ecco che abbiamo il nostro taglio quadrato che una volta orientato, una volta girato diventerà un rombo. Livello, unico livello per generare poi ancora un file jpeg o tif, dipende da quello che avevamo aperto, quindi unico livello per rifarci ricompagnire il lucchettino e per poi salvare con un altro nome per evitare di modificare l'immagine di partenza. Torniamo al nostro software di stampa per scegliere naturalmente il formato. Riprendo ancora il 40x40 che naturalmente non è obbligatorio a fare e abbiamo anche altre scelte, quindi possiamo scegliere dei profili, delle fissaggi standard, fissaggi con distanziali. Posizionandoci riusciamo a vedere sulla sinistra come sono fatti e anche quanto costano. Io l'ho fatto senza fissaggio proprio per poi poter personalizzare come ho fatto vedere le cose. Con Crea si aprirà l'impaginazione, quindi vedremo come poter inserire la nostra immagine. Andremo qui a cercare la cartella che contiene naturalmente l'immagine salvata e la trascineremo all'interno del quadro. Eccola qui, l'ho rinominata con lo stesso numero, ma con il numero obbo per non sbagliarmi e per non sovrascrivere il file, quindi per evitare di perdere la mia immagine originale. Andrà adattata, con un clic sopra si aprono le maniglie di gestione, quindi possiamo giustrarci per le dimensioni. Posizioniamo a lato finché le calamite, i lati calamitati attirano l'immagine e trasciniamo fino a riempire il quadro. Questo per sicurezza che ci sono margini di ritaglio, quindi dobbiamo fare attenzione per evitare che ci vengano dei bordi bianchi. Se vogliamo possiamo abbondare un pochettino di più per sicurezza e così avremo la certezza che tutta l'immagine verrà stampata. Con il tastierino, le freccettine nella tastiera possiamo giustrarci per centrarla bene e quando siamo a posto facciamo il nostro aggiungi prodotto al carrello, vediamo direttamente quanto costerà, c'è un bello sconto, un bel coupon di sconto da sfruttare, è sempre linkato nella descrizione, è sempre scritto come poterlo utilizzare, avremo i costi di stampa che sono veramente accessibili per poi farci stampare e recapitare a casa a un prodotto che ha qualità sicuramente meritevoli. Posso garantirvelo perché l'ho fatto prima di raccontarvi tutto questo. Grazie per l'attenzione, ricordatevi il vostro mi piace, se avete bisogno di delucidazioni scrivete in descrizione che nel giro di poco io rispondo.